Roo! Ehi! Indovina... Un po'? Cosa? Allora, prima di tutto... Tu sei la migliore pornografa softcore al mondo. Quindi grazie. E poi... Tyler vuole incontrarmi. Davvero? Sì. Tipo, di persona? Sì. Forte? Sì. Dove? Al lago. Quando? Sabato, dopo la fiera. Vuoi dire di notte? Certo, sì. Non... Non ti sembra un po' strano? No. Sorella, tu guardi troppi notiziari. Rilassati. La nostra età è a posto. Giusto? Non credi che magari dovresti incontrarlo alla fiera? In pubblico? Ecco... Non possiamo. Lui è un atleta. Sua madre è una donna super all'antica. È una situazione difficile. Sinceramente non mi importa molto della situazione. Perché non mi sembra per niente sicuro. Sono stata in situazioni molto meno sicure. Ma non è questo il punto. Il punto è che è pericoloso. Ru, questa è la differenza tra te e me. Io non ho sempre il privilegio di poter incontrare le persone in pubblico. La gente è qui. Sa? Non significa che devi incontrare quel tizio vicino a un cazzo di lago deserto in mezzo al nulla. Ok? Sembra folle. Tra tutte le persone al mondo volevo dirlo a te pensando che ne saresti stata felice. Fanculo! No, 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 no. Ciao, Ru. Salve. Giù, c'è? Sì, è di sopra. Posso? Ok. Sì.